Chi sono io e perché sono qui? Mi presento, mi chiamo Andrea Bocelli e sono qui perché qui ho avuto la fortuna di nascere e di crescere e poi vi confesso anche una cosa che in questo teatro ho avuto anche la fortuna di cantare già più di una volta però quando ero bambino qui venivo a piedi e a cavallo come stasera infatti lo tenete gli stivali e in questo luogo bellissimo gustavo la bellezza del posto l'aria pulita il canto degli uccelli e tra me ripetevo dei versi che avevo imparato allora ero adolescente, a memoria per dar contenuto a questo cinguettio che mi arrivava così gioioso alle orecchie e questi versi dicevano così lasciai lo stuolo l'albero e il nido mio presi il volo ed andai dove andai credevo il mondo avesse rispetto di me delle mie ali della mia libertà dalla su vedo te vedo il tuo dolore il tuo mondo muore risparmiami almeno pensando che sono rimasto da solo anch'io lasciami al cielo all'ultimo volo mio che ha scritto e cantato questi versi non può essere che un artista che per tutta la vita ha seguito e inseguito e direi trovato la bellezza quella bellezza che come scrisse Fyodor Dostoevsky salverà il mondo Renato Zero grazie 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 grazie